Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il forno elettrico per pizza calorie CF62M One Plus è progettato per garantire prestazioni elevate nella cottura della pizza napoletana autentica. Equipaggiato con una doppia resistenza, offre una potenza combinata di 1800 Watt per la resistenza superiore e 800 Watt per quella inferiore, assicurando un rapido raggiungimento della temperatura di 480 gradi Celsius in soli 30 minuti. Il forno è dotato di un termostato meccanico unico che regola la temperatura sia del cielo che della platea, semplificando notevolmente il processo di utilizzo. La camera di cottura, realizzata interamente in acciaio inossidabile, permette di cuocere pizze fino a 36 cm di diametro. La pietra in cordierite o il biscotto di cottura in dotazione, garantiscono una cottura ottimale grazie al rilascio graduale del calore. Ulteriori punti di forza sono la porta in vetro temperato, che consente di monitorare la cottura senza disperdere calore, e la luce interna, che offre massima visibilità durante l'intero processo di cottura. Il forno calorie CF62M One Plus combina robustezza, efficienza e semplicità d'uso in un design compatto e funzionale, adatto sia professionisti che appassionati della pizza. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.